Noi protestiamo dal 10 agosto del 2015, questo è il settimo mese, fra due mesi partoriamo un'altra boccata amara perché ci giungono notizie molto strane, nel senso che sono partiti oggi voucher, non so se è vero o non è vero, gli utenti sono pochi e sono disorientati, ma la cosa principale è che l'assessore, che cambia le carte ogni tre secondi perché lei dice una cosa e poi ne fa un'altra, mi spiego, in tre mesi questa amministrazione ci ha preso in giro tre assessori, tre versioni, tre discussioni, voi siete ex cogetra, non vi tocca nessuno da questa parte, tutte chiacchiere, noi siamo stanchi e non ci danno nessun tipo di riferimento, non ci dicono niente, l'apporto è pronto, mettiamo questo, togliamo quello, mettiamo questo, noi siamo stufi, ci dicono quello che dobbiamo fare e noi ne trarremo le conseguenze. Siamo dal 10 agosto che siamo fermi, siamo in attesa dell'approvazione del bilancio e di ciò che vogliono fare di noi. E voi chiederete un incontro all'amministrazione comunale? Sì, lo chiederemo sia col sindaco, sia col prefetto e sia col presidente della regione, spero che il Consiglio Comunale si renda conto che noi vogliamo soltanto lavorare, non chiediamo niente, il nostro diritto e la nostra dignità è un bussidupare per i nostri figli e ci dino delle risposte concrete, non ci prendono in giro, che è da parecchio tempo che ci prendono in giro.